nell'ambito del progetto max siamo qui con marco chiapella responsabile dei servizi di accoglienza inclusione della cooperativa il melograno cooperativa che è intervenuta nel nostro ddf di febbraio proprio per parlarci del tema dell'integrazione in particolare in ambito socio le sfide che stiamo affrontando in questi giorni in questi mesi insomma sono quelle comuni a tutti quelli che lavorano in questo ambito stiamo cercando di individuare altri ambiti di lavoro e di attività che possano in qualche modo dare nuovi sbocchi professionali ai nostri beneficiari dei progetti questo perché sostanzialmente rispetto alla maggioranza di progettazioni che avevamo prima del covid che erano prevalentemente nell'area di ristorazione chiaramente abbiamo dovuto individuare nuovi canali di progettazioni e di diciamo così di formazione lavorativa dei nostri beneficiari tutti ci è arrivata una bellissima notizia che riguarda diciamo così la fine di un percorso di un nostro beneficiario ex beneficiario dei nostri progetti di inclusione che recentemente è diventato manager di una catena di grande distribuzione che attraverso appunto un iter che era partito dai tirocini del dei servizi di accoglienza gestiti da noi l'ha portato appunto ad avere una stabilità economica contrattuale in questo momento oltre a essere iscritto a una laurea magistrale in bicocca appunto ricopre il ruolo di responsabilità all'interno di una grande catena insomma e questo ci permette di insomma da una parte capire che appunto quello che noi facciamo all'interno dei nostri progetti può essere anche partendo da piccole esperienze possa dare in qualche modo diciamo così creare traiettorie lavorative professionali e dei nostri beneficiari e questa è una storia di successo sostanzialmente quello che che cerchiamo di fare è creare nuove modalità di inserimento lavorativo e attraverso anche delle figure innovative che abbiamo inserito all'interno dei nostri progetti che sono proprio dedicate a questa a quest'area e proprio di individuazione di aziende territoriali locali che possano in qualche modo collaborare con i nostri progetti di integrazione Grazie a tutti i nostri progetti di integrazione